Ben ritrovati nel salotto di Chiacchiere e Caffè. Vi ricordo il nostro indirizzo mail chiacchierecaffèchiocciolatelechiara.it e soprattutto veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook dove è obbligatorio cliccare Chiacchiere e Caffè mi piace. In questo secondo blocco di puntata cambiamo completamente argomente d'ambientazione, torna un argomento che a dire il vero ci aveva incuriosito e appassionato parecchio, c'è ancora molto da dirne, quindi ho invitato un nuovo ospite in studio, parliamo di chiacchiere di mediazione e lo facciamo insieme a Roberto Taroni, mediatore familiare e presidente di Mediazione e Conciliazione Italia. Buongiorno Roberto. Buongiorno a te. Allora, da marzo 2012, avevamo già detto nella scorsa puntata, sarebbero aumentati i settori dove si fa ricorso a questa figura del mediatore che abbiamo già svelato non è un extraterrestre, assolutamente, con l'inserimento di condomini e RCA. Quindi, secondo stime, 1.100.000 cause di diritto passano ai mediatori. È un numero importantissimo. È un numero importantissimo ed è per quello che è stato trasferito un anno dopo dell'inizio delle altre 12 condizioni e devo dire che probabilmente forse ancora non siamo pronti in effetti. Stiamo lavorando tutti, noi, ognuno, ogni organismo per le proprie attività, ma siamo molto indietro, non tanto solo come noi quanto come tutto l'organizzazione sistema, sì. Però stiamo cercando di fare... Siamo in fase di rodaggio, mettiamola così. Assolutamente sì. Ascolta, la nascita di organismi di mediazione, quali vantaggi può portare all'utente finale? Tantissimi, credo. Perché se è vero da una parte che può essere visto come un'ulteriore spesa per l'utente e sicuramente c'è una fase interlocutoria dove però anche qui si possono trovare delle soluzioni, è vero anche che il mondo estero ci dimostra che il 70% di questi tipi di pratica porta a un risultato ottimale. Si arriva appunto ad avere quasi la totalità delle presenze delle due parti, problema che oggi abbiamo in Italia, e un 70% buono di risultato positivo. Quindi è come considerare che il 70% delle pratiche non andassero nemmeno ad intasare i tribunali. Questo sarebbe una cosa assolutamente grandiosa. Quindi per l'utente il risultato è il tempo, che è delimitato appunto come diceva la precedente puntata, in 4 mesi massimo, ma a volte si sistema veramente in cose molto brevi, in tempi brevi. E la seconda parte è il fatto, i costi. I costi sono già sicuri, certi, all'inizio della pratica, è conosciuto, non ci sono sorprese, e sono prezzi ragionevolissimi. A cui quindi tutti possono accedere. Assolutamente sì. Oltre modo, questi prezzi ci sono, ma ci sono anche dei ritorni fiscali importanti, dei 250 euro, dei 500 euro, da dedurre dalle tasse fiscali, quindi non da togliere dal reddito, proprio da non pagare come tasse, che sono degli importi fondamentali. Insomma, quindi molto più del valore stesso, a volte, del costo della mediazione. Ascolta, perché la scelta di creare con Mediazione e Conciliazione Italia un network tra professionisti e consulenti in diversi settori, piuttosto che un organismo lì a sé stante e basta? È stata una scelta politica iniziale, ed è stato un salto al buio al primo momento, perché di norma quando un imprenditore fa una scelta, lo fa con delle statistiche, con delle informazioni già pregresse. Noi in questo mondo non avevamo nessun tipo di statistica, perché non esisteva. Era nuovo. Era nuovo, quindi esisteva. E quindi abbiamo fatto una scelta come società di investire in un'attività che andasse controcorrente e che creasse in realtà una generazione di nuovi commerciali, manager, che stessero in tutte le aree italiane, anziché far sì che siano gli stessi clienti che aprono queste sedi in tutta Italia, a poter fare poi la parte commerciale per trovare le... perché non c'è più tempo ormai. Ogni professionista che apre con noi una sede, per riuscire a sbarcare il lunario e far bene il proprio lavoro, è talmente subissato di leggi, di clausole, di lavoro, che non potrebbe minimamente permettersi il tempo di poter sentire chi può portare a lui delle pratiche e sinceramente non avrebbe nemmeno le capacità, visto che ogni pratica ha delle specializzazioni importanti. E quindi mi ha detto, benissimo, vogliamo fare una cosa fuori dal mercato, creiamo una rete commerciale, adesso noi abbiamo più di 50 nostri manager in giro per l'Italia, che seguono territorialmente queste aperture e il bello è che guadagnano il riferimento a quanto guadagnano le singole sedi. Quindi non c'è più l'aspetto, come succede oggi, che si vedono gli organismi che richiedono i 20, i 30, i 50 mila euro per cominciare questa attività. È proprio un'operazione diversa. Noi lavoriamo insieme alla persona che apre e guadagniamo con lui molto poco, perché avendo tante sedi in Italia è chiaro che possiamo permetterci il fatto di guadagnare... Di spalmare. Sì, esatto. E quindi poter fare una cosa che ritengo essere una cosa che adesso si dà l'operazione di essere in un ambiente vincente e giovane. Ascolta, proprio perché è un sistema in via di rodaggio, mi piace chiamarlo, la mediazione è un po' una nuova prospettiva professionale per molti giovani, magari allettati dal fatto che con le 50 ore di corso uno dice faccio il mediatore. In realtà poi a correggere un pochino il tiro è arrivato un decreto ministeriale che stabilisce invece la necessità innanzitutto della qualificazione per materia. Quindi è impensabile, per esempio, che la guida alpina diventi esperto in famiglia. Certo, certo. Sì, questa è stata una modifica importante. Per quanto la mediazione non vada a trattare l'argomento per cui non devo essere informato in maniera così eccelsa di quella tipologia perché possiamo fare un accordo che è completamente fuori della normale idea di giustizia. Però è chiaro che nel momento in cui devo fare una proposta perché le parti non si mettono d'accordo e che il giudice domani possa valorarla per poter far poi anche pesare a chi non l'ha accettata dei costi e che devo avere meno coscienza di quello che sto parlando e discutendo. Quindi questo sicuramente è stato importante. È stato positivo. Sempre questa circolare ministeriale ha chiarito un altro punto molto molto dolente. L'avesse chiarito sarebbe stato già ottimo. Sarebbe, ecco, diciamo, ha tentato di chiarire un punto dolente. So che qui sei anche abbastanza e giustamente polemico perché ci sono ancora delle pesanti lacune in questo che riguarda il cosiddetto tirocino assistito. Che cos'è? Eh, che cos'è. Che cos'è? A saperlo. Allora abbiamo capito essenzialmente che necessita quando una persona ha finito queste 50 ore e quindi lo decreta mediatore civile di dover seguire una prassi di almeno 20 parti di mediazioni quindi dovrebbe in teoria essere più cosciente volta per volta di tutte le componenti che avvengono durante la mediazione. Quindi dovrebbe affiancare il mediatore. Affiancare il mediatore o vari mediatori in varie parti della mediazione. Ora in realtà sembrerebbe, abbiamo fatto delle richieste apposta, ma che poi la persona possa comunque fare il mediatore e allo stesso tempo fare, insomma, se stiamo veramente a vedere le cose e se questo deve essere anche un'attività per aiutare i giovani. 20 mediazioni in un anno in un organismo che non è organizzato non li farà mai. In due anni come deve fare? Non li farà mai. Quindi rischia di dover tornare dopo due anni a rifare un esame. Noi come network abbiamo la grande fortuna di poter dare in tempi molto brevi il risultato e risposta a questo. Però mi metto nei panni degli altri 7.900 che invece non hanno queste strutture e come faranno mai? E d'altronde, quello che dicevi invece prima sul fatto delle possibilità per i giovani è un fatto reale. Oggi noi contiamo che se entro fine anno avremo le 300 sedi come ci auspichiamo di avere, come siamo certi di arrivare, corrispondono circa a 1.500 persone impiegate in questa cosa qui che ne corrispondono poi in realtà a 2.000 tra le persone in segreteria e quelle che poi si occupano delle parti di back office, eccetera, eccetera. Ora, prova a immaginare 2.000 posti di lavoro in questa situazione è veramente un gran risultato. Il problema sta nel fatto che migliaia di persone vengono sfornate da questi corsi e il problema è che giustamente gli enti di formazione fanno questo di mestiere e poi non devono stare là loro a sindacare se queste persone troveranno o non troveranno. Ma poi le persone devono fidarsi, come abbiamo fatto noi quando a suo tempo abbiamo deciso di fare questa scelta, a degli organismi che intanto incamerano gli importi annuali di iscrizione al loro organismo e poi si vedrà, procurati la pratica e facciamo metà a testa o quello che sia. Questo io non l'ho voluto assolutamente mai avvicinare, noi non abbiamo mediatori che non lavorino nelle sedi, cioè non li iscriviamo proprio, perché riteniamo che non solo sia importante e fondamentale il dar lavoro, ma soprattutto qualificare il lavoro e poter dire a una persona ok, tu vieni con me, ma da domani mattina lavori. È come un po' se io avessi una impresa, un'azienda e dicessi a una persona vieni pure a lavorare con me, intanto mettiti là, poi vedremo cosa succede, nel frattempo non ti pago, non va bene, non va bene. E quindi ecco che, ecco perché sempre il discorso del network, è fondamentale credo l'aspetto dell'organizzazione per i giovani realmente. Ecco, facciamo un po' un gioco, ti regalo la bacchetta magica di chiacchiere e caffè, puoi riorganizzare tutto, correggere i difetti, cosa faresti? È difficilissimo, è difficilissimo, nel senso che io già con il mio network… Ci hai provato. Sì, spero di riuscirci grazie a tutti i miei collaboratori che sono veramente in gamba, per cui stiamo veramente cercando di fare i miracoli per ogni singola area e ci stiamo divertendo molto e questa è un'altra cosa bellissima, un'altra cosa bellissima che quando tu la mattina ti puoi alzare e vedi tutte le tue persone che rispondono e che sono entusiaste nel fare, questo è il più bel risultato per un imprenditore. Ma chiaro che se dovessi immaginare un qualcosa di organizzato a livello nazionale, ci vorrebbe veramente una struttura dedicata che potesse in qualche maniera distribuire le cose in maniera eque e reali. E chiarire un po' meglio queste 20 mediazioni. Sì, ma questo si potrà chiarire, il problema è che come sempre le cose vengono fatte molto velocemente, così come hanno assorbito la legge. È stata presa per i capelli per non pagare un'altra tassa alla comunità europea, ma è stata fatta malissimo in termini della velocità e quindi se noi avessimo più tempo per organizzare le cose, avremmo sicuramente meno grosce. Oggi siamo tutti qua contenti perché non è stata prorogata di un anno queste ultime due ulteriori pratiche che devono obbligatoriamente arrivare in mediazione, ma abbiamo ancora la spada della sentenza. Quindi c'è gente che continua a dire sì, ma si accade questa sentenza che dice il rovescio di tutto. Quindi capisci che non è un bel lavorare laddove giorno per giorno da imprenditore investi e fai delle operazioni e ognuno che con noi apre fa questo. E sai che può cambiare tutto. Sì, quindi è veramente fantasiose questa cosa. Ascolta, io ho sentito parlare di mediazione civile e familiare. Cosa sono due sorelle, due cugine, non sono neanche nemmeno parenti? Sì, no, non sono parenti. Non sono parenti. Non sono parenti, no. La mediazione familiare è un istituto meraviglioso, usato non sempre correttamente, ma è meraviglioso, che prevede la possibilità di essere strumento per il mediatore di una ricomposizione di dialogo in una famiglia in cui nei momenti più difficili non esiste. E quindi sicuramente ci vuole un'attenzione, una sensibilità molto particolare. La mediazione familiare, a differenza di quella civile, deve per concetto essere voluta dalle parti, quando poi però c'è scritto che il giudice può obbligare a andare alla famiglia a fare una mediazione familiare. Allora è proprio concettualmente rovescio, no? Quindi in questi meandri bisogna cercare una soluzione, un equilibrio, ma è sicuramente un'esperienza enorme. Tra l'altro, nella mia tesi, ho voluto specificare una nuova situazione, che è quella della mediazione familiare nelle nuove famiglie, le famiglie allergate. Dobbiamo immaginare degli equilibri completamente stravolti con il vecchio papà del figlio che ha in casa, con la nonna che viene... Cioè, prova a immaginare quanti più aspetti si sono creati e quante più difficoltà ci sono. Così come in rarissimi casi, questi possono essere tutti valori aggiunti in realtà. Infatti tu scrivi, descrivi la mediazione familiare come un percorso, uno spazio di incontro in un ambiente neutrale, nel quale la coppia ha la possibilità di negoziare le questioni relative alla propria separazione, sia negli aspetti relazionali, sia in quelli economici. I genitori sono incoraggiati ad elaborare gli accordi che meglio soddisfino i bisogni di tutti i membri della loro famiglia. ed ancora per essere genitori insieme, nonostante la scissione della coppia. Insomma, sembra tutto rosa e fiori qui. Eh, rosa e fiori, se ne sono pochi. Nel senso che l'intelligenza delle persone ha un peso fondamentale in questo tipo di rapporto. Però devo anche dire che il più delle volte l'intelligenza non è sufficiente. Puoi immaginare quando tu una vita l'hai passata insieme a una persona e hai creduto in questa persona e scopri il giorno dopo che magari sono mesi che questa persona ha una vita parallela. Quindi posso anche immaginare che l'intelligenza non sia sufficiente. Ti scattano dei meccanismi terribili e quindi fare mediatore familiare deve prendere atto di tutto questo, senza poi dimenticarsi di quello che è la generosità. Il fatto che il genitore nei momenti in cui si sente uscire da casa è come perdesse il fatto di essere genitore. Devi proprio riconquistare uno spazio, così come il figlio deve riconquistare il fatto che due genitori non sono più insieme, non per quello non lo amano più, ma è un modo diverso di gestire le cose. E negli adulti a volte è più difficile ancora che nei piccolini. Ascolta, proprio per spiegare bene la mediazione familiare, io so che c'è un aneddoto molto molto divertente che ha a che fare con le arance. Sì, è un aneddoto storico, vecchissimo, che ho preso in prestito, il quale dice appunto che a volte l'ha anche solo una contesa, ma questo vale anche nella mediazione civile, assolutamente, delle volte ci si baruffa per una contesa di un qualcosa solo perché non ci si chiarisce e non si parla. Raccontami questo aneddoto. Sì, in questo caso l'arancia erano due bambini che facevano la baruffa e il genitore che sente urlare questi due bambini dice ma insomma cosa c'è? Voglio l'arancia, lui ha preso l'arancia e quindi si distribuono. Arancia ce n'è una sola. E come facciamo in questo caso? Ecco che allora il padre prende la primo figlio e gli domanda perché voleva l'arancia e dice perché ho voglia del succo d'arancia, mi piacerebbe spremerla. E il secondo, il secondo, no, voglio la buccia per fare il dolce. Allora il padre non fa nient'altro che spremerla l'arancia e prende la buccia e darla al secondo figlio, due contenti ed ecco che la mediazione è venuta con due persone felici, per cui a volte è solo una questione di dialogo e di comprensione, non tanto del soggetto e dell'oggetto specifico. Quindi secondo te questo aneddoto esemplifica bene la figura del mediatore sia familiare che civile? Sì, io sono convinto che nella mediazione civile ci sia moltissima possibilità di risultato laddove io non investo solo nella problematica diretta ma in tutto quello che si è creato in quella dinamica. Cos'è la reale motivazione del contendere? Non è il più delle volte, a mio modo di vedere, proprio l'oggetto ma la situazione, basterebbe a volte un chiedere scusa, basterebbe una volte un far capire che dispiace. Sono convinto che questo, poi chiaro ci sono cose che vanno oltre queste cose, irrisolvibili, certo. O risolvibili in maniera diversa. Però tante cose potrebbero essere aiutate anche da una maniera più psicologica che pratica e tecnica. Tutto questo appartiene a quella che viene detta l'etica del mediatore. Io ti cito qualcuno degli aspetti e tu me li commenti. Neutralità. Neutralità è una cosa fondamentale, tanto che la legge dice che nei momenti in cui tu conosci una parte o le parti non potresti nemmeno avvicinarti o perlomeno devono essere nella conoscenza e accettarlo. Quindi la neutralità è l'unica cosa che ti permette di poter stare in equidistanza. Quindi equidistanza, mi hai spiegato il secondo aspetto dell'etica. Atteggiamento empatico. Ecco, questo è un aspetto fondamentale, nel senso che, come diceva dei miei colleghi, nel momento in cui ci si trova nel network a capire un po' le problematiche, a volte è gran difficile che grosse differenze lavorative, di abitazioni, portino a un buon risultato. A volte è proprio necessità di poter entrare in empatia con l'altra parte per poter poi tirarne fuori il meglio. Ci sono delle cose che fanno stizzare dei momenti che è difficile mantenersi tranquilli. Ecco, in quei momenti la mediazione è ben difficile. E poi per ultimo direttività. Sì, credo che oggi siamo in un mondo in cui il girarci attorno è un gioco di società. Potersi permettere invece il fatto di essere sinceri, leali e diretti sia qualcosa che non ha prezzo. E nel contatto con le persone questo porta, a mio modo di vedere, un risultato ottimale sin da subito. A questo che ti ha spinto a fare il mediatore familiare? Anche questo e anche la mia storia, naturalmente, di persona, di uomo, che nel tentare di comprendere determinate dinamiche che avvenivano nella mia vita mi hanno spinto a tentare di capirle da un'altra angolatura. Poi, chiaro, quando ti immergi, immergi perché sono un istituttore subacqueo, quindi vedi l'idea dell'immersione familiare, ecco, in quel caso, allora sì, mi è cominciato a piacere determinate cose che adesso provo ad inserire nella professione. E pensi veramente che questa figura del mediatore possa essere uno spunto per molti giovani per creare proprio una nuova figura professionale con tutti i sé e i ma di cui abbiamo parlato prima? Sì, sì, credo che sia un'ottima possibilità è una delle poche possibilità che oggi fiorisce in maniera reale e veloce e credo che se tutte le forze economiche di professionalità lavorassero per arrivare a un giusto obiettivo potremmo fare dei catalizzatori enormi a livello professionale su questa materia. Ho un'ultima curiosità da chiederti che me la sono proprio tenuta alla fine. Spesso si ricorre alla comediazione, e quindi due mediatori. Ma perché, scusa, le persone litigano così tanto che uno non basta? No, 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 no. In questo caso è più sulla parte, diciamo, della mediazione familiare, laddove il mediatore familiare ritiene che un suo collega sia specificatamente più dentro determinate problematiche, ma anche... Cosa con una sensibilità maggiore. Sì, una cultura storica anche di esperienza è bene a volte. La cosa negativa è che logicamente sono due professionisti e come tali vengono pagati in due, eccetera, eccetera. Però a volte la comediazione sicuramente aiuta, aiuta. Allora, davvero grazie a Roberto Taroni, mediatore familiare, presidente di Mediazione e Conciliazione Italia. Grazie per essere stato questo oggi con noi. Ma non so, ho il sentore che ci ritroveremo ancora perché mi sa che c'è ancora molto da dire, soprattutto adesso sono curiosa di sapere se questo famoso tirocino assistito verrà un pochino chiarito dalle nuove riforme. Grazie a voi, sarò molto contento. Grazie mille. Davvero grazie. Purtroppo per quest'oggi le nostre chiacchiere sono terminate, per noi è l'ora del caffè, quindi a me non resta che darvi appuntamento a domani. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.